Musica Non mancherai delle mie live su youtube se vuoi provare a vincere skin di Paso Battaglia o V-Bucks Benvenuti a tutti in questo nuovo video In questo nuovo video ti è benvenuto a leggerti Donate appunto a vedere come completare tutte le sfide dell'evento Lama Rama su Rocket League Per ricevere le 5 ricompense gratuite su Fortet Provi di incominciare appunto come completare ogni singola sfida Sono davvero semplicissime Vi ricordo di lasciare un bel like e iscrivervi a questo anale Attenendo la campanella delle notifiche Così siete sempre aggiornati su questi video e live con lo skin di Paso Battaglia Infine condividi il suo video a tutti gli amici e mi potete anche loro Con completare appunto tutte le sfide dell'evento Lama Rama di Fortet per Rocket League Quindi partiamo subito come ben sapete appunto è iniziata esattamente da questa notte a mezzanotte Questa collaborazione tra Fortet e Rocket League ed è iniziata appunto l'evento Lama Rama Infatti questo evento è iniziato oggi e terminerà il 12 ottobre Quindi avete ben due settimane di tempo per accedere a Rocket League Per completare queste sfide per ottenere queste ricompense Quindi le sfide che dovremmo completare sono esattamente 5 E sono davvero semplicissime Quindi ascoltate bene e lo completerete davvero in pochissimi minuti Partiamo subito per visualizzare queste sfide Basta ovviamente entrare nel vostro account di Rocket League Vi ricordo che dovete anche collegare il vostro account di Big Games a quelli di Rocket League Se no le ricompense su Fortet non vi arrivano Quindi accedete a Rocket League Vi appaiono appunto alla vostra destra tutte le sfide Basta cliccarci sopra E le prime 5 sfide che vedete sono quelle che dovete completare Quindi adesso andiamo ad elencarle Appunto partiamo subito dalla prima sfida Infatti la prima sfida ci chiederà di giocare una partita online su una qualsiasi playlist Davvero semplicissimo Basta andare nella sezione gioca E appunto avviare una qualsiasi partita in una qualsiasi modalità che volete voi Quindi cliccate su un accaso Non dovete vincere Basta solamente eseguire la partita Una volta terminata la partita avrete completato questa sfida E su Rocket League vi verrà data appunto l'antenna lama flyer E su Forte vi verrà dato lo spray Rocket League Passiamo invece alla seconda sfida Perché la seconda sfida ci chiederà invece di vincere una partita online in casual con l'antenna lama Quindi dovrete appunto munirvi dell'antenna lama che avete sbloccato completando la prima sfida Quindi dovete selezionare questa antenna lama Appunto la dovete mettere sulla vostra macchina E appunto dovete andare di nuovo nella sezione gioca Quindi semplicissimo E selezionare una partita in modalità casual Quindi questa volta solamente in modalità casual Basta cliccate sopra E avviate questa partita La dovete vincere e anche questa sfida l'avrete completata Semplicissimo E appunto la ricompensa che otterremo su Rocket League Sarà il copricapo Testa di lama Dovebbe essere sì E invece la ricompensa che otterremo su Forte Sarà la scia holodata drop Passiamo alla terza sfida Siamo già a metà percorso E la terza sfida ci chiederà di effettuare 5 gol Salvataggi O assist con la testa di lama Quindi dovete appunto munirvi Dovete appunto selezionare la ricompensa Che avete avuto dalla sfida numero 2 Cioè la testa di lama Quindi la selezionate Andate appunto in partita In una qualsiasi modalità E dovete appunto effettuare O 5 gol Oppure 5 salvataggi Oppure 5 assist Con la testa di lama E anche questa sfida ve la siete portati a casa Su Rocket League otterrete l'adesivo Loot lama octane E invece su Forte Otterrete l'emoticon di Rocket League Passiamo alla quarta sfida Quarta e penultima sfida Dovremo appunto vincere 5 partite online Su una qualsiasi playlist Con l'adesivo lama octane Quindi dovete appunto selezionare l'adesivo lama octane Che è quello che avete sbloccato dalla ricompensa numero 3 E andare appunto a vincere 5 partite Su una qualsiasi playlist Cioè su una qualsiasi modalità della sezione gioca Quindi è davvero semplice Vincere queste 5 partite E avete completato anche questa sfida Su Rocket League otterrete la ricompensa Delle ruote lama E su Forte Invece otterrete la traccia musicale Rocket Groove Ultima sfida Dovrete appunto diventare l'MVP In una qualsiasi partita online Con le ruote lama Che significa diventare l'MVP Praticamente dovete essere i migliori giocatori in partita Appunto con le ruote lama Quindi selezionate le ruote lama Che avete sbloccato alla ricompensa numero 4 E appunto completate questa sfida La ricompensa che riceveremo su Rocket League Sarà il boost di battaglia Più antenna mongolfiera di battaglia Ruote di battaglia E audio motore E boost di battaglia La ricompensa che otterremo su Forte E' quella più bella in assoluto Che è il dorso decorativo Octane RL Più variante Quindi queste erano tutte quante le sfide Davvero sfide semplicissime Che anche se non avete mai giocato a Rocket League Per essere riuscire a completarle Senza troppi problemi Ovviamente vi ho fatto vedere una clip Che però dovrebbe essere in inglese Questa clip Perché appunto Io ho questo problema E quando accedo su Rocket League Mi si frizza il gioco Cioè non mi fa proprio entrare Fatevi sapere se anche avete questo problema Comunque ho cercato di risolverlo Però ho visto in molte persone Appunto questo bug Che non mi fanno accedere al gioco Quindi non so se andrò a riscattare le ricompensi E se ci riuscirò Magari sarà nei prossimi giorni Quindi spero che questo video Vi sia stato d'aiuto Ovviamente appena entriete poi Su vostro account di Fortet Vi verranno automaticamente date Tutte quante le 5 ricompense Quindi spero che questo video Vi sia stato d'aiuto Se così come al solito Vi ricordo di lasciare un bel like Iscrivetevi a questo canale Attivando la campanella delle notifiche Così se siamo aggiornati Su questi tipi di video E live con lo skin Basa Taglia Infine condividi questo video Tutte le amici E muovete anche a loro Come completare appunto Tutte queste nuovissime 5 sfide Dell'evento Lama Rama Su Rocket League E riscattare queste 5 ricompense Gratute su Fortet Noi ci vediamo Un presto video E alla prossima live